È possibile trattare la stitichezza con i farmaci cinesi? È certamente possibile, ed io in genere utilizzo una ricetta erboristica disponibile in compresse che risale ad una formula del 1773. In realtà è una modifica di una ricetta molto più antica che risale al II secolo d.C., cioè a 1800 anni orsono. La formula tratta la stitichezza abituale che si manifesta con difficoltà ad andare di corpo e sensazione di pienezza addominale. E poi irregolarità dell'albo con feci secche, asciutte, caprine. È adatta ai bambini, ma anche e soprattutto agli anziani. Se volete saperne di più, guardate questo video che presenta la storia, i componenti, le indicazioni, la ricerca scientifica sulla pillola che umidifica l'intestino. Sono quasi 30 anni che utilizzo il Rung Chan Wan, la pillola che umidifica l'intestino, per trattare alcune forme di stipsi abituali. Con le giuste indicazioni questa formula è estremamente efficace, utilizzata da sola o con l'aiuto di altre componenti. La formula risale, nella sua formulazione attuale, ad un testo che è stato editato nel 1773. Ne vediamo qui una pagina. Il volume si chiama Shang-Chi Tsung Shang-Shu, e cioè volume del maestro Sheng per la vita venerabile, ed è stato scritto da Sheng Jin Hao. All'interno di questo volume sono presenti molte altre formule, come ad esempio il Chai Lin Tang, e cioè il decotto di Bubleurum e Poria, oppure il Wen Qing Yin per purificare il calore, oppure il Tao Qi Tang per trattare le forme di ernia da freddo, nelle quali c'è una stasi di Qi. In realtà però la formula è molto più antica, perché è una modifica di una ricetta che si chiama Maziren Wan, che è comparsa per la prima volta in un testo scritto 1800 anni o sono. Vediamo in questa immagine l'edizione italiana di questo testo, che fu editato dalla rivista italiana di medicina tradizionale cinese all'inizio degli anni 2000, quando io ero direttore di questa rivista. Si tratta dello Shang-Alun, nel trattato delle malattie febbrili causate dal freddo, compilato da Zhang Zhongjing, il galeno della medicina cinese, nel secondo secolo dopo Cristo. Quindi si tratta di una formula che ha 1800 anni di storia. Vediamo molto brevemente la formulazione di questa ricetta. La pillola che umidifica l'intestino. Huomaren, Tao Ren, il seme in persiche, e poi Tanquay, la radice dell'angelica sinensis, e poi Shendi Wang, la radice della remmania glutinosa, Ziche, il fructus auransi, Singren, il seme in pruni. Questa ricetta è disponibile in Italia sotto forma di compresse già confezionate, dunque a dosaggio standard, oppure può essere utilizzata sotto forma di ricetta magistrale, compilata dal medico, a questo punto il farmacista non fa nient'altro che è miscelare gli estratti secchi delle erbe che il medico ha inserito in percentuale predeterminata all'interno della ricetta. E poi questi estratti secchi saranno assunti con un goccio di acqua tiepida, miscelando un cucchiaino degli estratti secchi appunto con l'acqua tiepida. La sintomatologia alla quale si rivolge questa formula è quella della sindrome costipativa da secchezza di stomaco e intestino, così viene definita in medicina tradizionale cinese, associata a deficit di liquidi e deficit di sangue. Ovviamente il paziente presenta una stipsi, ma una stipsi che si manifesta con feci asciutte, con feci caprine, secchezza delle feci. Si associano altri segni talora di secchezza a livello più generale, come secchezza buccale, xerostomia, oppure pelle secca e diestrofica. Qualche volta compare anche una sorta di poliuria, che peggiora questo quadro di secchezza. La lingua si presenta pallida, sottile, asciutta, e il polso è fine e rugoso. Questa lingua e questo polso sono l'espressione di un deficit del sangue, di un deficit dello yin, di un deficit dei liquidi. Vediamo alcune immagini della lingua. Abbiamo detto che la lingua è pallida, perché c'è un certo deficit di sangue, è asciutta perché nel sangue è compreso anche una quota di liquidi, che ovviamente non umidifica a sufficienza la lingua, ed è sottile perché il suo trofismo è alterato appunto dal deficit di sangue. Queste tre immagini danno un'idea di come possa essere più o meno la lingua di questi pazienti. La formula a suo tempo veniva prescritta sotto forma di decozione. Occorreva decuocere gli ingredienti in acqua e terminata la decozione, assumere il filtrato in tre dosi giornaliere, oppure si poteva aggiungere del miele. La formula invece viene utilizzata adesso sotto forma di compresse già confezionate, o sotto forma di estratti secchi che vanno miscelati con acqua, come ho detto, ed esercita un'azione lassativa e emolliente e contemporaneamente nutre il sangue. Si tratta infatti di un quadro clinico di secchezza di stomaco e intestino con insufficienza di liquidi organici in pazienti affetti da deficit di sangue e talora anche da deficit di C, essendo il C la bioenergia. Dal punto di vista eziopatogenetico si tratta spesso di pazienti anziani che sono più o meno debilitati, che sono affetti da un quadro iniziale di deficit di sangue, che non è detto che corrisponda a un vero o proprio stato anemico, e secondariamente anche da un quadro di deficit di C. Il sangue a natura yin nella medicina cinese, dunque la sua carenza comporta anche un deficit di liquidi che si esprime con i segni della secchezza a livello intestinale, a livello di stomaco, ma come abbiamo visto anche a livello cutaneo o a livello delle mucose buccali. Ovviamente tutto questo è correlato all'alterato trofismo di queste strutture e di questi tessuti. Quali sono le applicazioni in biomedicina? Ovviamente la stitichezza. La stitichezza da secchezza intestinale, molte forme di stipsi abituali, le stipsi abituali dell'anziano, le stipsi da deficit di sangue. Ovviamente bisogna riscontrare quelle caratteristiche linguali e le caratteristiche del polso che ho prima descritto per poter fare questa diagnosi. Una volta che è stata fatta questa diagnosi si può utilizzare ovviamente questa ricetta che come dicevo è la ricetta che viene modificata dal Mazira Nuan, una ricetta di 1800 anni o sono. Quali sono i componenti di questa ricetta? Tau Ren, Semen Persiche e Huoma Ren che hanno azione emolliente, umidificano l'intestino e lo lubrificano con gli oli in essi contenuti, favorendo in questa maniera lo svuotamento. Tau Ren, il Semen Persiche, ha natura neutra, sapore amare e dolce, si rivolge all'intestino ma anche a cuore, fegato, polmone e ha un'azione mobilizzante sul sangue. Ne elimina la stasi, ne rompe gli ammassi, ha un'azione lubrificante sull'intestino ma ha anche un'azione addirittura sulla tosse e sull'asma. Huoma Ren, invece, ha azione tonica sullo Yin e tratta modicamente i segni di calore. È considerato un lassativo umidificante e lubrificante dell'intestino che favorisce anche la riparazione tessutale. È indicato nella stipsi ma anche nel deficit di Yin con stipsi e nelle ulcerazioni e nelle ferite anche per uso topico. Può essere sostituito anche da Yuli Ren, il Semen Pruni, cioè il seme del prugno. Huoma Ren agisce da lassativo stimolando la mucosa intestinale e causando un aumento della secrezione di muco intestinale e della peristalsi, ma ha azione anche anti-iperlipemica e anti-ipertensiva. Tang Wei è il terzo farmaco di questa ricetta. È un tonico del sangue che promuove la funzione peristaltica intestinale. Secondo la tradizione medica cinese ha natura tiepida, sapore piccante e dolce e nutre il sangue andando ad agire su cuore, fegato in milza pancreas, stimola la circolazione del sangue, umidifica l'intestino, ha un'azione trofica sulla mucosa intestinale e dunque è in grado di trattare questa stipsi cronica da deficit di sangue. Viene aiutato da Sheng Di Wang, la radice della remmania glutinosa, la quale agisce attraverso due meccanismi, da una parte nutre il sangue e dall'altra nutre lo yin, d'altra parte Sheng Di a natura fredda, a sapore dolce e contemporaneamente amaro, rinfresca il sangue, purifica il calore, nutre lo yin, promuove la formazione dei liquidi e in questa maniera aiuta questo effetto emolliente della ricetta. Quando c'è stipsi si crea una sorta di distensione addominale e per trattare questa distensione addominale in questa formula è aggiunto zikè, il frutto dell'arancio essiccato, che ha natura fresca, sapore amaro, che si rivolge all'intestino crasso, ma anche a stomaco e mezza pancheas e ha come effetto soprattutto quello di mobilizzare il C, cioè muovere l'energia, trattare la stasi, dunque distende, rilassa lo stomaco e l'intestino, riduce gli accumuli e in questa maniera tratta anche i disturbi correlati alla distensione epigastrica ed addominale. Singren è l'ultimo farmaco di questa ricetta. Si tratta, come vediamo in questa immagine, del nocciolo dell'albicocca, che ha un effetto umidificante intestinale come tauren. Singren agisce come umidificante dell'intestino e come lassativo, ma ha un'azione anche sulla tosse e sulla dispnea, tant'è vero che spessissimo è inserito nelle formule cinesi che trattano tosse e dispnea. Su PubMed ho ritrovato un articolo estremamente interessante intilottolato Chinese Herbal Medicine for Constipation il quale cerca un'associazione tra i quadrisindromici cinesi, le erbe medicinali, le formule, le proprietà di queste erbe medicinali e le interazioni di queste erbe medicinali. È un articolo estremamente interessante per chi voglia approfondire questo argomento. Ulteriore approfondimento di questo argomento si possono avere attraverso il volume Farmacologia Cinese, che ho scritto insieme ad altri colleghi all'interno del Trattato di Agopuntura Medicina Tradizionale Cinese che ho curato per la casa editrice ambrosiana del gruppo Zanichelli, o anche, in maniera molto più semplice e molto semplificata, con il volume Abicina Fitoterapia Cinese che si può scaricare come e-book da internet. Video di medicina dall'Italia alla Cina A cura del Dottor Lucio Sotte Visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su Agopuntura Medicina Cinese Medicina Integrata www.luciosotte.it www.luciosotte.it